Oggi con i ragazzi abbiamo fatto un laboratorio particolare che si distaccava dal teatro ma non tanto perché abbiamo parlato di cinema e facendoli capire la differenza tra il linguaggio teatrale e quello cinematografico, la recitazione, la messa in scena rispetto appunto nella realizzazione di un video. Siamo partiti da uno sketch. I ragazzi inizialmente l'hanno guardato come se fossero a teatro, poi abbiamo iniziato a concentrarci su alcuni particolari e su cosa? Con una macchina da presa, su quali particolari ci si può concentrare, quindi sul focus che è una delle differenze tra cinema e teatro. Abbiamo dato un ruolo ad ogni ragazzo in modo tale che si sono cimentati nella figura del regista piuttosto del cameraman, scenografo. Una giornata diversa in cui i ragazzi hanno avuto uno spaccato di quello che è il lavoro del set. Alla fine i ragazzi sono stati molto divertiti, molto coinvolti e quindi si è deciso di fare una parte di montaggio, quindi ci siamo seduti e insieme abbiamo montato i filmati registrati dai ragazzi e abbiamo anche ottenuto un prodotto finale. Questa sarà sicuramente una giornata molto divertente perché i ragazzi hanno potuto per la prima volta osservare quello che avviene dietro una telecamera e provando insomma di essere protagonisti. Quindi hanno potuto cogliere un po' la complessità di quello che è tutto il lavoro corale che c'è dietro a un lavoro appunto di regia, di montaggio e di appunto di osservazione e li ha visti molto coinvolti, quindi è stato sicuramente, il feedback che abbiamo ricevuto è stato assolutamente positivo. Motore, partiamo. C'è una una, tre, quattro, azione. Motore, partiamo.